Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. La relazione tra Greta Rossetti, nota influencer, e Rebecca Staffelli, popolare speaker radiofonica, ha sorpreso tutti. Nonostante abbiano condiviso il palcoscenico del grande fratello recentemente, solo ora emerge un dettaglio inaspettato. Sono amiche da bambine. Il tutto è venuto alla luce quando Greta ha pubblicato su Instagram una foto di loro due da bambine, accompagnata dalla didascalia 15 anni dopo. In seguito, ha aggiunto un'altra immagine, questa volta attuale, replicando la stessa posa di anni fa con il commento olè e un cuore rosso. Questo gesto ha sollevato molte domande tra i fan, specie perché durante il programma non è stata mai menzionata la loro lunga amicizia. Molti si interrogano sul motivo di questo silenzio. Si tratta forse di evitare accuse di favoritismi o raccomandazioni? Ciò che è certo è che, indipendentemente dai motivi, il legame tra Greta e Rebecca è profondo e risale a molto prima del loro incontro televisivo. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie a tutti.